Neanche mi ricordavo che oggi uscisse Rebel Moon parte 2 per gli amici Zack Snyder's Star Wars parte 2 su Netflix e l'ho vista, tanto dura due ore e quindi ho un sacco di cose da dire che un po' sono quelle che ho già detto nella recensione del primo video No, adesso non posso metterlo con le schede perché YouTube Studio non mi fa mettere le schede da cellulare, misteri e la scienza, quindi poi lo farò più tardi ma nel caso recuperatela voi Ma essenzialmente Rebel Moon è il progetto scatola di Star Wars fatto da Zack Snyder e siamo vicino alla denuncia perché secondo me, vabbè, alcune cose E che devo di così, facendo un riassunto per chi volesse capire un po' il tono della recensione, tante risate involontarie, alcune cose sono anche carine, forse un po' meglio della prima parte, un pochino meglio della prima parte Ma niente di che è, e poi ecco, una cosa voglio dirlo, secondo me Zack Snyder's avesse unito la prima e la seconda parte che vengono insieme a quanto? 5 ore e mezza, 5 ore circa Perché questa dura 2 ore e la prima 2 ore dura un quarto, una roba del genere, insomma si vuole fare un film solo e forse ne avremmo guadagnato tutti Che dite? Sono Alcalin Hammer, benvenuti sul mio canale, ieri vi ho portato due recensioni attese, Back to Black e Civil War di Alex Garland Film interessanti al loro modo, scoprite se vi sono piaciuti o meno Iscrivetevi, puntiamo ai 1350 iscritti e abbonatevi se vi va, perché lo dice anche la Madonna, qui, vedete? Lo dice, iscrivetevi e abbonatevi con due caffè al mese per sostenermi Allora, parte 2 di Rebel Moon, che, vi dico già, è uno spoiler ma è uno spunto interessante Forse si farà un altro film o altri film perché la scena finale ovviamente è tutta aperta Quindi c'è una nuova missione per questi eroi che ovviamente hanno vinto Che di cosa parla Rebel Moon è Star Wars Quindi in un mondo stile Star Wars ci sono i ribelli e c'è l'impero cattivissimo Bene? Quindi quando la guarda del corpo della figlia dell'imperatore Che era buono però è scappata via È ricercata dal cattivone, il generale super cattivo Che l'ha trovata in un pianeta Per sbaglio, insomma In un pianeta dove ci sono 4 pecorai e 3 che zappano la terra E da qui nasce l'idea di Zack Snyder di fare una sorta di vendetta Perché ovviamente i cattivoni nel primo film avevano fatto quello che avevano fatto E questi si erano incazzati Quindi la rivoluzione, no? Attraverso improponibili scene e scelte narrative discutibili Il film, i due film, mettono in scena la più classica delle storie Va bene? A fare la protagonista, la sfregiatrice Come dice il titolo di questo secondo film È la butella che io ripeto Secondo me è stata brava Nei due film ha la faccia giusta al momento giusto Si muove bene Ed è forse l'unica davvero in parte Se vogliamo Ben che gli altri attori non sono malissimo Ve lo dico subito Si sta parlando di un film sotto la sufficienza Ma secondo me Se il problema del primo film era Descrivere questa situazione in modo improponibile È piuttosto sfilacciata Senza senso Nella seconda parte Essendo che i personaggi sono stati già introdotti Almeno si ci dedica A stare più sul Stare più sul semplice Ce la farò E quindi questa cosa Funziona un pochino meglio Oppure meno peggio Fate voi Perché essenzialmente Senza dire troppo Sul finale del primo film I spoiler Così vogliamo dire I buoni in modo improponibile Avevano quasi ucciso il cattivo Qua loro credono di averlo ucciso Ma in realtà no E quindi I cattivoni Con il generale Arriverà su questo pianeta Ho dimenticato da Dio Per essenzialmente vendicarsi E rapire la sfregiatrice Quindi Sofia Butella Il suo personaggio Ma ovviamente questi Che adesso sono tanti Sono forti Perché hanno un sacco di alleati Eccetera Fanno un po' come In O Malone Mamma O Perso l'Aereo O come certi film di Rambo Quindi Armano Questa zona Come se fosse Un presidio di guerra E E preparano delle trappole Per questi Esercito Ecco Essentialmente il film è questo Con la vittoria finale Wow Sai che spoiler E senza dire chi Chi vive Chi muore Questo non ve lo dico E neanche l'ultima scena Ma Essenzialmente È questo Il film Può durare Un'ora Un quarto Nel senso che In mezzo Il nostro Zack Per arrivare Alle due ore Quindi per fare un film figo Oltre ai 964 Jumpscare No Jumpscare Scusate Slow motion Fa Dei Una sorta di flashback Di tutti i personaggi Quelli meno esplorati Nella prima parte Possono essere interessanti Ma qua sono buttati Proprio come riempitivo Come filler Della serie Oh Ti ho detto anche di questo personaggio E c'è il passato Mostarato Senza dire niente Della Protagonista Che è un minimo interessante Quindi in realtà Il filo conduttore È proprio lei Che riesce anche a rendere bene Nella parte Quindi Da quel punto di vista Funziona Chiudiamo Sul lato Tecnico Perché qua c'è da discutere A me Zack Non dispiace Come creatore Di immagini La narrazione È un'altra storia Infatti i suoi videoclip Sono bellissimi I suoi film Un po' meno Anche se devo dirvi Visto che è una Notizia legata All'attualità A me il suo Sucker Punch Piace Quindi io La versione estesa Magari La vorrei anche vedere Ma questa è Un'altra cosa Questo film È questo Grande tecnica Nel senso che Lui sceglie di fare Un film In un certo modo Con questi slow motion Quasi casuali Perché Nel mezzo Della battaglia Possa anche Comprendere Lo slow motion Di uno che sta per morire Tipo così Ma Ma lo slow motion Su uno che sta Sta facendo il grano Anche no Su uno che sta Camminando E si ferma Tutto così Anche no Cioè non serve a niente No essenzialmente Ma Diciamo che Un suo stile Ok Detto questo Lui Ha un'impronta Che A me piace Da punto di vista Fotografico Cioè i suoi colori Come li abbina Funziona Funziona Chiaramente Ha quello stile lì Che appesantisce Tutto Ed è un po' La condanna Di questo regista E anche il sceneggiatore Che scrive Ste storie Qua è davvero Star Wars 3.0 Vabbè È il seguito Di quello precedente Cioè non c'è una cosa Originale Ma rispetto al primo film Dove era tutto Un po' copiato Da tutti Qua Si copia solo Da Star Wars Perché non c'è nient'altro Poi da Diciamo Da citare Fra gli elementi A mio A mio parere Quindi È un film Molto molto Modesto Secondo me Un po' Leggermente migliore Rispetto al primo Perché Ha meno cose da dire E uno dice Ma come Due ore Non c'è niente da raccontarsi Questo è anche vero Quindi Se volete farvi due risate Rimanere Attivi sui social Perché sarà Sbeffeggiato Sto film Per me non è orribile Solo brutto Che c'è una differenza Leggera Il primo Era orribile Sì Questo è brutto Va bene Vogliamo dire così E niente Questo Le musiche Solite Stanno bene Nella settimana Di videoclip Il montaggio Sfasato Troppo lungo È un po' Pesantino Nonostante La storia Molto molto Semplice Voi L'avete visto Cosa ne pensate Iscrivetevi Qua sotto E iscrivetevi Ciao ragazzi Sfasato